E' morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale delle Scotte di Siena, l'operaio folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando in questo cantiere che si trova in località Le Vertighe nel comune di Monte San Savino. Marco del Cimuto aveva 33 anni, era di Pesco Costanzo, l'Aquila. Era arrivato nel territorio rettino assieme ad altri due colleghi della Asla, la ditta di Lama dei Peligni, provincia di Chieti, che fa parte del consorzio Italwork che aveva vinto un appalto per conto di Enel per la sostituzione dei vecchi pali della luce La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Il magistrato di Arezzo Andrea Claudiani ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, le indagini sono curate dai carabinieri. Intanto la FIOM CGL di Chieti, a cui il giovane operaio si era da poco associato, ha diramato un comunicato stampa. Tanti proclami e pochi fatti, leggiamo nel comunicato a firma di Andrea De Lutis. Tutti i giorni muoiono persone sul lavoro, ne muoiono così tante che oramai non fanno più notizia e quelle poche volte che ne veniamo a conoscenza ne restiamo dispiaciuti per qualche misero minuto senza nemmeno prenderci il tempo per riflettere sull'accaduto. Viviamo in una società con un mercato del lavoro talmente moderno e attuale che a forza di tagliare le spese per rendere le aziende più competitive e giocando, mettendole in concorrenza al ribasso per poter strappare gare e appalti a basso prezzo, non ci si chiede dove effettivamente questi tagli andranno a colpire quasi sempre la sicurezza o il salario, se non entrambi. Andrea De Lutis ha poi dichiarato una giornata di sciopero delle maestranze della Asla SRL per il 23 di agosto.